Come replica questa proposta di togliere l'area C? Non è che replico, però per me la salute, dico due cose, la salute e quello che respirano i milanesi è certamente prioritaria. E la seconda cosa, credo che tutti noi ogni giorno vediamo i disastri che nascono dai problemi che nel mondo si generano dal cambiamento climatico che a sua volta non è che nasce dal nulla, ma nasce dall'inquinamento. Ora, o Milano se ne fa anche carico nel suo piccolo, oppure se Milano dice che sono problemi altrove, se succede in Cannot, se succede in Germania, se succede prima o poi, arriva anche dalle nostre parti. Quindi credo che una città saggia come Milano debba farsi carico per la sua piccola parte di questo problema. Quindi io non replico, ma dico con nettezza che noi andremo avanti sull'area B, che noi andremo avanti sull'area C, se vinceremo, perché crediamo che sia per il bene dei milanesi, ma il contributo di Milano ha un problema drammatico di climate change. Oggettivamente io ogni giorno la apro i giornali e vedo qualche tema del genere che richiama la mia attenzione.